Finalmente vittoria, finalmente i primi tre punti della stagione. Il quinto tentativo è quello buono per il Fuzz al Barletta che batte 4 a 3 in rimonta al pala di sfida Mario Borgia, lo Chaminade Campobasso e cancella lo zero in classifica nel girone F del campionato di Serie B. Prestazione volitiva ma infruttuosa nel primo tempo tutta grinta e carattere nel corso della ripresa. I biancorossi di Leo Ferrazzano, privi nell'occasione dell'infortunato Falco e dello squalificato Otero due pedine non di poco conto, cominciano decisamente con il giusto piglio. Rafinha recuperato in extremis dall'infermeria non sfrutta in avvio un pregevole assist con il tacco di Borracino, poi ci prova direttamente il capitano del Fuzz al Mal Aswan, fa buona guardia. Attaccano i padroni di casa, Salvemini su ottimo invito di Iodice sulla destra alza troppo la mira, poi si fanno vedere anche i Mollisani, Mastroilli all'esordio stagionale del primo minuto si oppone così a Pescolla, poi si ripete poco dopo su Capitan Pezzuto deviando la traiettoria in corner. Stesso esito dalla parte opposta sulla stoccata di Rafinha, poi a tre minuti dal riposo arriva il gol che rompe l'equilibrio, lo realizzano a sorpresa gli ospiti a segno al termine di un'azione confusa con Carruso. Fuzz al in svantaggio all'intervallo in maniera senza dubbio immeritata. La storia della partita tuttavia cambia totalmente in avvio di ripresa, merito di un Fuzz al che riesce finalmente ad essere cinico al momento della finalizzazione. Basta meno di un minuto ai padroni di casa per pareggiare i conti, l'assist è di Chiarriello, il gol è di Vivaldo che poco dopo firma il sorpasso con un assolo da incorniciare. Punta due avversari, li lascia sul posto e poi fa partire un destro pazzesco che non lascia scampo ad Alassouad. Doppietta Vivaldo, vantaggio Fuzz al. Lo Chaminade ci mette un istante per replicare ma è sfortunato quando il palo respinge il diagonale di oriente. I padroni di casa tirano dunque un sospiro di sollievo e piazzano poi l'allungo. Rafinha con il destro direttamente sul calcio di punizione realizza il più due. Borracino sul rigore porta i Barlettani al triplo vantaggio. Quattro reti dei Biancorossi in meno di cinque minuti. Mazzata psicologica non indifferente per il Campobasso che però non ci sta e Carruso a suonare la carica prima accorciando le distanze, poi riportando ancora di più in scia i suoi. Tripetta per lo scatenato calcettista dello Chaminade che vale il meno uno. Ultimo quarto di gara, il Fuzz al vuole chiudere la partita ma il diagonale di Chiarriello si perde sul fondo, mentre Alassouad si oppone bene a Rafinha. L'estremo difensore ospite deve superarsi poco dopo, addirittura sul suo compagno di squadra ruscica. vicinissimo all'autogol. Rischia davvero poco nel finale invece la formazione di Leo Ferazzano, anche quando gli ospiti schierano il portiere di movimento. Finisce così 4-3 al palla di sfida, finalmente vittoria dunque per il Fuzz al, finalmente i primi tre punti della stagione. Finalmente vittoria, sofferta ma vittoria, una vittoria ci tengo a dedicarla a mio figlio Antonio che oggi compie 15 anni, gli voglio solo dire che gli voglio un bene dell'anima e che sono orgoglioso di lui. Per quanto riguarda il resto sono orgoglioso anche della mia squadra, come lo sono sempre stato finora, anche dopo le sconfitte, perché sappiamo noi come sanno tutti qual è stato il nostro problema e qual è il nostro problema. Purtroppo anche oggi mi mancavano due giocatori, come Otero e come Falco, come ogni partita mi mancano sempre due giocatori. Io sono sicuro che appena recupereremo tutta la rosa e con l'arrivo dei nuovi che stanno arrivando, ovviamente potremo esprimere ancora meglio il nostro gioco.